La seconda che hai selezionato come operatività che cos'è, qual è il sottostante e le motivazioni? Ma allora la seconda, vi presento un long sull'S&P e qui devo dire che il livello sarebbe già stato toccato adesso perché era 4217, il target lo metto a 4230, quindi è un'operazione abbastanza veloce con uno stop a 4209 che è più o meno vicino ai minimi. Non so se volete posso anche modificarla però insomma sarebbe già entrata in posizione in questo momento. Guarda la teniamo valida ovviamente, un aneddoto per chi ci segue, tu questa mattina avevi indicato una strategia sull'S&P 500 che era short, solo che appunto ti avrebbe preso, eseguito e ti sarebbe andato a target tra quando ci siamo sentiti e quando poi insomma adesso stavamo andando in onda, quindi ti sei trovato sostanzialmente sullo fronte opposto rispetto alla strategia originaria, anche qui rispetto alla tua visione d'insieme pensi che sia una discesa veloce, quella che abbiamo visto e che quindi adesso sarà l'occasione per riposizionarsi comunque in acquisto o bisogna comunque stare un po' sull'attenti? Dove cambierebbe eventualmente il sentiment con una visione di più ampio respiro guardando all'S&P 500? Ma l'S&P 500 diciamo che per me rimane abbastanza bullish fino a sopra area 4165, quella zona lì, quindi se dovesse sfondare al ribasso ecco proviamo a mettere un'altra operazione visto che tanto insomma questa sarebbe già troppo vicina, proviamo a fare uno short la settimana prossima o questa settimana, da area 4183 fino a 4170, quindi se tocca 4183 entriamo short e usciamo a target a 4170, ci stoppiamo se risale sopra 4192, quindi ve la cambio adesso in diretta, ve la aggiorno, Ok, intanto abbiamo preso nota che così le mettiamo anche come carta ufficiale per la sfida, short S&P 500, livello di ingresso 4183, stop a 4192 e target a 4170, abbiamo preso nota di questa strategia, Ok.